Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Sergio Costa, in occasione della campagna di comunicazione ambientale Mi Illumino di Meno, chiama a raccolta i parchi per un'adesione fattiva all'iniziativa, con un gesto simbolico, quello dello spegnimento delle luci delle sedi istituzionali, il prossimo 1 marzo alle ore 19. Raccogliamo con entusiasmo l'invito, dichiara il Presidente del Parco Nazionale del Cilento Alburni e Valodidiano Tommaso Pellegrino. Nella piena filosofia del parco aderiamo convintamente all'iniziativa, spegnendo le luci di tutte le nostre sedi istituzionali, così da sensibilizzare alla difesa della natura e alla riduzione degli sprechi. In occasione della giornata del risparmio energetico, l'ente ha chiesto a tutti i sindaci dei comuni del parco di fare lo stesso simbolico gesto con le case comunali.